Parla tifoso dell'Azzurra. Siamo tornati con le ultime novità legate al nostro amato club. Prima di entrare nei dettagli di questa entusiasmante voce di trasferimento, voglio sottolineare il nostro continuo impegno per migliorare e portare i migliori risultati al Napoli. Ma prima di iniziare, premi il pulsante Mi piace se sei un vero napoletano. Insieme siamo una forza imbattibile. La notizia che sta scuotendo la scena calcistica coinvolge il nostro amato Victor Ozyman. Il nostro talentuoso attaccante è l'oggetto del desiderio di molti club in tutto il mondo e le voci sul suo futuro. Circolano con forza! Recentemente sono arrivate notizie dall'Inghilterra secondo cui il Chelsea sarebbe stato in contatto diretto con Ozyman, in vista di un possibile trasferimento nella finestra estiva del 2024. Il portale trasferimenti calcio ha evidenziato che Ozyman è considerato uno dei migliori giocatori del calcio mondiale, soprattutto dopo le sue impressionanti prestazioni con il Napoli in Serie A. Club come Manchester United, PSG e Chelsea hanno già mostrato interesse per il giocatore nigeriano. Anche l'Arsenal è stato menzionato come possibile pretendente, ma secondo il portale inglese, il Chelsea sarebbe ora favorito per acquisire Ozyman, con l'allenatore Maurizio Pochettino che vede. Nell'attaccante la sua massima priorità. È importante però precisare che, secondo indiscrezioni raccolte da Area Napoli, IT, al momento non esiste un accordo definitivo con il club inglese, ma solo indagini preliminari. Adesso vogliamo sentire la vostra opinione, tifosi napoletani. Cosa ne pensate di queste voci sulla possibile partenza di Victor Ozyman? Sarebbe una grossa perdita per il Napoli? Lascia i tuoi commenti qui sotto e condividi le tue prospettive. E non dimenticare di mettere mi piace e di iscriverti al canale, così potremo continuare a portarti le notizie più interessanti dal Napoli. Insieme continueremo a sostenere e accompagnare il nostro club verso il successo. Forza Napoli sempre!